Uno speciale polifemo sull'attività amministrativa del comune di Palagiano in provincia di Taranto con riferimento alle opere pubbliche. Ci occuperemo in particolar modo della rigenerazione, della riqualificazione urbana, funzionale del quartiere Bachelet attraverso l'impiego di fondi Duc. Ho al mio fianco l'avvocato Domiziano Lasigna che è il sindaco di Palagiano. E allora sindaco siamo qui in questo quartiere che davvero sta rinascendo. Prima di registrare abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di questo impianto di sorveglianza e sono rimasto davvero colpito perché Palagiano non è Roma, Roma capitale. Però ci sono degli interventi proprio in termini di sicurezza che sono importanti e hanno un particolare pregio, una particolare importanza se consideriamo che vengono realizzati in una comunità di circa 16.000 abitanti. Allora parliamo di questa rigenerazione urbana del quartiere Bachelet. Ora lei ci farà un po' da cicerone, da guida in questo nostro percorso. Innanzitutto benvenuti a Palagiano, un grazie a voi per l'attenzione che ci rivolgete come sempre. Abbiamo voluto raccontare questa mattina, stiamo partendo dal quartiere Bachelet, per anni considerato un quartiere periferia. In realtà con queste operazioni, soprattutto con l'investimento dei fondi DUC sulla rigenerazione urbana del quartiere, abbiamo voluto dare proprio prova del collegamento di questo quartiere alla comunità. Quindi non ci sono periferie, è un unico centro abitato con quartieri differenti, con zone attenzionate. Ecco, qui a Bachelet abbiamo voluto investire i fondi DUC con la rigenerazione urbana, quindi strade, piazzette, ma soprattutto un primo stralcio del progetto di videosorveglianza di Palagiano. Ecco, sindaco, ora iniziamo questo percorso, il nostro operatore ci permette di visualizzare queste opere. Intanto qui abbiamo visto alle nostre spalle questa struttura sportiva e già ho visto, così si notano, queste telecamere. Sì, questi sono i pali di controllo, sono telecamere di videosorveglianza direttamente collegate con il comando di polizia locale e poi all'occorrenza con la comunicazione diretta presso la stazione dei Carabinieri. E serve proprio a questo, ad iniziare un controllo un po' più serrato del nostro territorio per garantire innanzitutto sicurezza e serenità dei nostri concittadini. Partiamo da Bachelet perché abbiamo rilevato in alcuni momenti, soprattutto nelle ore notturne, una serie di attività, corse automobilistiche, utilizzo di strade come fossero piste automobilistiche. E quindi vogliamo dare un controllo attento. Partiamo da Bachelet ma l'intera comunità di Palagiano, l'intero territorio di Palagiano sarà monitorato. Questo ci servirà anche per un controllo diretto, ad esempio, sugli abbandoni dei rifiuti, altro tema che stiamo combattendo da tre anni ormai con già buoni risultati, ma possiamo migliorare le performance grazie anche ad un controllo costante del territorio. Ecco, Sindaco, in quanto tempo si completerà tutto? Quando avete iniziato? Quali i vari step successivi che ci saranno prima di avere davvero un quadro completo e ottimizzare il tutto? I lavori sono iniziati già un mese fa, intendiamo completarli certamente ad inizio nuovo anno, con il nuovo anno entreranno in funzione le strutture di controllo. Abbiamo intenzione di proseguire anche con il nuovo capitolato della raccolta differenziata perché c'è un cambio di guardia rispetto all'azienda della gestione dei rifiuti, altro tema, ripeto, molto importante per noi e anche in questo caso Bachelet sarà un quartiere sperimentale perché sperimenteremo delle nuove metodologie di raccolta che indicheremo quando la nuova azienda prenderà la gestione del servizio ed è un quartiere importante per noi perché, ripeto, è popolato, ci sono dei servizi importanti, le scuole, le strutture sportive. Ecco, vogliamo abbellirlo rendendolo un quartiere da visitare, da abitare, da vivere con più orgoglio e con più fierezza. Mentre noi stiamo parlando, ecco, qui abbiamo trovato l'insegna, il cartellone che reca appunto, così, la realizzazione dei lavori. Infatti, leggiamo, DUC, distretti urbani del commercio, comune di Palagiano. Questo strumento del DUC è molto importante perché permette di unire le varie realtà, le realtà delle attività commerciali con quelle istituzionali. Sì, assolutamente. Anche questo è un esperimento importante. Io ritengo sempre, come spesso dico, che la politica in genere deve dare delle opportunità. Ecco, i distretti urbani del commercio sono una opportunità, una opportunità vitale per un quartiere che può rigenerarsi anche attraverso canali commerciali. Quindi, perché no? Questa è l'area del mercato. Sono strade occupate il giovedì dal mercato settimanale. Deve essere una zona, ripeto, vissuta per il commercio, per la scuola, per lo sport. Deve essere un quartiere che deve dimostrare una rigenerazione non solo urbana, ma anche culturale e sociale. Questo è l'obiettivo. Allora, Sindaco, quest'area che si sta riqualificando un tempo recente, non tanto lontano, era davvero un'area degradata, tutto intorno erbaccia, ma qui avvenivano purtroppo anche episodi di illegalità, diffusa dagli atti osceni in luogo pubblico a episodi anche di criminalità, spaccio di droga e quant'altro. Certamente, ristrutturando, riqualificando l'area, questi fenomeni criminosi vengono proprio soppressi, soffocati. Sì, questo è un quartiere importante. Siamo vicino alla Gianni Rodari, all'istituto comprensivo. Sì, è un quartiere importante per una serie di ragioni. Io stesso da bambino ho frequentato questa scuola e vivo e ho vissuto questo quartiere come un po' casa mia. Per cui bisognava e bisogna continuare con azioni di rigenerazione, proprio perché non bisogna lasciare periferie abbandonate, non bisogna etichettare quartieri come quartieri Bronx o come quartieri non integrati all'interno della città. Ecco il senso dell'operazione. Bachelet è stato, per certi aspetti, è in taluni casi un quartiere particolarmente attenzionato. Noi abbiamo iniziato a guardare questo quartiere come una componente importante della nostra Palagiano. Ecco perché bisognava renderlo più bello. Bisognava e bisogna, perché l'operazione è appena iniziata, non possiamo pensare che si risolva con una piazzetta o con una strada nuova. Ma bisogna guardare a questi interventi permettendo a questa gente, che è gente di Palagiano, di essere orgogliosa di questo quartiere. E lo sarà quando? Non quando si ritorna a Bachelet come un quartiere di periferia, ma quando altra gente verrà a Bachelet per una passeggiata, per una partita da guardare, per un giardino curato da ammirare. Ecco, questo è l'obiettivo. Poi è chiaro che dobbiamo intervenire. Lo spaccio della droga è un problema, chiaramente non di competenza amministrativa, ma di competenza delle forze dell'ordine. Però noi non possiamo tenere gli occhi chiusi. Dobbiamo dirlo. Succede, probabilmente succede in ogni comune, ma succede anche a Palagiano. Non possiamo tenere gli occhi chiusi. E allora interveniamo anche con interventi strutturali per... Muovere propri presupposti. Esatto, per rendere la vita difficile a chi magari ha queste abitudini che denigrano un paese e che non operano al buon nome di Palagiano. Beh, vi abbiamo mostrato l'aspetto, diciamo, esterno di questo impianto, di questo sistema di videosorveglianza nell'aria, nella zona Bachelet. Sindaco, e ora siamo nella centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale, dove ci sono i vari monitor che appunto visionano quanto accade. Vedete già lì negli schermi. Ovviamente questa è ancora in fase di realizzazione e di ultimazione, però già vedete il monitoraggio, il controllo. Sì, ecco, qui siamo nella base operativa. La comandante di Letta Santo Pietro, comandante di Polizia Locale, ha un po' la gestione del controllo. La consulenza è affidata al nostro Francesco Marchione, che segue un po' l'aspetto tecnico. Qui abbiamo attivato le prime otto telecamere su zona Bachelet, sono già operative. 22 sono le telecamere in tutto operative su Palagiano, ne mancano ancora 32 per completare l'intero monitoraggio del territorio. E attraverso questo sistema, con due telecamere in entrata e in uscita, addirittura a riconoscimento targa, ci permettono proprio di avere, come ci siamo detti prima, un controllo più diretto del territorio. Serve proprio a prevenire o eventualmente ad intervenire in situazioni estreme che si sono verificate in questi anni. Dovevamo risolverle, le abbiamo risolte o le stiamo risolvendo attraverso un monitoraggio costante. Vedete qui abbiamo lo schermo con le varie videate relative, ma questo è solo un inizio, un antipasto di quello che sarà il monitoraggio a 360 gradi. Allora, comandante, il ruolo della Polizia Municipale, della Polizia Locale, è quindi innanzitutto garantire la sicurezza del territorio. In questo senso la tecnologia è un supporto prezioso, indispensabile? Sì, è un supporto indispensabile per monitorare il territorio e garantire maggiore sicurezza. Infatti è in fase di approvazione anche il regolamento, che adesso è in commissione consigliare, e a breve verrà approvato per poi partire con il monitoraggio completo, in quanto le telecamere sono direttamente collegate con il comando di Polizia Locale. Quindi ci occuperemo noi ovviamente della gestione e dell'intero impianto. Il sindaco ha sottolineato il fatto che purtroppo quella zona non solo era un luogo, era meta di malintenzionati, di gente che adusa al crimine. Ecco, in questo modo si stronca il fenomeno. Sì, in questo modo potremmo monitorare meglio la zona, speriamo di ampliare il sistema su altre zone del territorio, con altre telecamere, in modo tale da dare al cittadino maggiore sicurezza. E allora, sindaco, termina qui questo nostro speciale su una parte della riqualificazione urbana di Palagiano, perché, lo diciamo, questo è un tassello. Poi, prego, prego. Infatti fa parte proprio del progetto dove abbiamo ottenuto il finanziamento attraverso il DUC, quindi di riqualificazione proprio del quartiere. E allora, sindaco, abbiamo posto l'attenzione delle nostre telecamere sulla riqualificazione di un quartiere, di una zona, di un'area di Palagiano, ma ce ne sono tante altre. È un modo per essere vicini alla città e per dare servizi al cittadino e in termini di fruizione di opere pubbliche e di sicurezza urbana. Sì, esattamente come dici tu, Luigi, mi piace ricordare un messaggio che ho ricevuto qualche giorno fa da parte di un cittadino che usa girare il paese in bicicletta. Mi ha scritto «È bello vedere Palagiano piena di cantieri». Ecco, noi l'abbiamo chiamata Operazione Nuova Palagiano. È un'operazione che deve… Un new deal, un nuovo corso. Esatto, un nuovo corso perché vogliamo lasciare un segno, anche proprio visivo, estetico, strutturale, architettonico, raccontare che una nuova Palagiano era possibile e possibile, stiamo provando a realizzarla. Qualche giorno fa, parlando riservatamente con la mia comandante di Polizia Locale, ci siamo detti che stiamo lasciando un bel segno a questa comunità. Lo stiamo lasciando il segno perché riteniamo che da troppi anni si attendeva questa innovazione, questa rivoluzione, questa rigenerazione. Ecco, noi ce la stiamo mettendo tutta, con la speranza che la comunità apprezzi, e sta apprezzando perché i riscontri sono sempre piacevoli, e quindi ci auguriamo di continuare così, ecco, su questa onda. E allora, Sindaco, siamo davvero alla conclusione. Io sono solitamente molto duro, molto critico, molto severo con la classe politica, però quando trovo degli amministratori come lei, che davvero coltivano il rapporto diretto con la città, il Sindaco di strada è la cosa più bella che possa esserci, e dico Sindaco di strada nell'accezione più positiva, più meritoria del termine. Un Sindaco, cioè, che non sta seduto in poltrona, così, nella Turrisse Burnea, in questa torre d'Avorio, ma monitora momento per momento la vita cittadina e ascolta ciò che va e ciò che non va nella città, cercando di dare risposte concrete e operative. Questa mattina, facendoci questo giro per Palagiano, abbiamo avuto, come dire, la prova provata, il riscontro effettivo. Sì, è proprio così. Io credo che il ruolo del Sindaco, ma di un amministratore in genere, debba interpretarsi in questa maniera. La declinazione più giusta è la declinazione di strada, essere per strada, tra la gente, perché poi è il modo più diretto per capire ciò che va, ciò che non va, ciò che si può migliorare, ciò che si può fare. Quindi si continua così, si continua andando ad incontrare la gente, perché poi dei propri cittadini non bisogna avere paura, del giudizio non bisogna avere paura. Se si lavora con impegno, si può essere contestati per determinate scelte e da noi ancora fortunatamente regge questo rapporto diretto, costante, di confronto leale con la mia, la nostra comunità. Quindi si continuerà a lavorare così, incontrando la gente e comprendendo ciò che va e ciò che può essere migliorato. Grazie. 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 Grazie.